Il Signore vi dia pace. La comunità dei frati minori dell'eremo delle carceri vi dà appuntamento a un momento di preghiera nel quale ripercorreremo la via crucis del nostro Signore Gesù Cristo, transitando nei luoghi del nostro santuario. Un momento per ripercorrere le sue orme piene d'amore nei luoghi visitati e amati dal nostro Padre San Francesco. Il Signore vi benedica.